Breaking News arriva direttamente dall'Hollywood Reporter. Amy C, a quanto pare, ha ufficializzato la serie tv tratta dalle opere letterarie di Anne Rice, la mamma di intervista col vampiro che ha visto per la prima ed unica volta la sua trasposizione cinematografica nel 1994 ad opera di Neil Jordan con un super cast Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater e una giovanissima Kirsten Dust. Ma cosa ne pensiamo di questo progetto? Ciao Popoli Lega Nerd, io sono Gabriella e oggi cerchiamo un pochino di approfondire questo discorso, scoprire qualcosa in più sulla serie tv tratta dalle cronache dei vampiri di Anne Rice, che andranno ad incontrare, esattamente come accadeva anche nei libri, il ciclo delle streghe di My Fair. Questo è un progetto abbastanza complesso, ha avuto una gestazione molto molto particolare e io sinceramente da grande fan delle cronache dei vampiri sono un po' come San Tommaso. Se non vedo, non credo, ma soprattutto sono molto molto scettica, perché chi come me ha letto le cronache dei vampiri, eccezione fatta per intervista col vampiro, tutto il resto del mondo incredibile, maestoso, approfondito, complesso, creato dalla Rice, appunto è immenso. Ci sono millanta personaggi, millanta epoche da dover esplorare, dettagli, fronzoli, viaggi all'inferno, nel paradiso, ma come se fa a fa tutta sta roba esattamente? E mi si dice di aver trovato la formuletta magica. Voi ci credete? Io non tanto, però cerchiamo un po' di fare un viaggio insieme quest'oggi, in questo video, dove scopriamo quella che è stata effettivamente la gestazione delle cronache dei vampiri, che tra l'altro, da quanto sappiamo adesso, con questa ufficializzazione della serie, dove mi si ha comprato tutti e 18 i libri, e la prima stagione, che durerà 8 episodi, dovrebbe arrivare l'anno prossimo su MC Plus. Tra pochissimo, praticamente, e qua non abbiamo neanche un cast, ma soprattutto, rispetto a quello che doveva essere il progetto originale, non si comincerà più da Scelti dalle Tenebre, ovvero il secondo libro delle cronache dei vampiri, ma bensì da Intervista col Vampiro, che sì, è il primo libro in assoluto pubblicato dalla Rice, ma appunto è una storia che entra nel bel mezzo di, quando forse per una serie tv aveva più senso effettivamente cominciare dall'origine. Inoltre, il pilot di Scelti dalle Tenebre era stato già scritto, quindi questo ci fa capire che forse si sta ricominciando tutto da capo. Ma facciamoci aiutare dai nostri articoli che trovate ovviamente su LegaNerd.com. La notizia Intervista col Vampiro MC ufficializza la serie tv di romanzi di Anne Rice, si prende tanto le cronache dei vampiri, come vi ho detto, quanto il ciclo di My Fair, e il progetto in realtà passa nelle mani di due showrunner e sceneggiatori abbastanza conosciuti, che hanno comunque lavorato su progetti molto grossi, come per esempio Breaking Bad e Better Call Saul. Sto parlando di Rowling Jones e Mark Johnson, perdonatemi. Quindi effettivamente a questo punto di vista potrei dire che siamo quasi in una botte di ferro, ma io non mi fido mai troppo degli showrunner. L'obiettivo di MC è quello di creare un Rise Verse, che detta così non è che mi suoni proprio benissimo, ovvero quello di creare un universo espanso, come nel caso della DC e della Marvel, e detta così mi suona ancora peggio. Facciamo però un passo indietro e vediamo come tutto questo è effettivamente cominciato, e quindi dobbiamo ritornare indietro nel 2016, quando R. Rice afferma la sua volontà di voler fare effettivamente una serie tv sulle cronache dei vampiri, e che è finalmente tornata in possesso dei diritti delle cronache dei vampiri, proprio perché nel 2014 erano state acquistate da Universal Pictures, che aveva intenzione di fare un reboot cinematografico di intervista col vampiro. Questo per fortuna non è accaduto. Cosa ci dice in questa occasione R. Rice? Ci dice che lei ha intenzione di fare una serie tv che assomigli a livello produttivo e dettagliato di qualità a qualcosa come Game of Thrones, questo perché Rice non aveva ancora visto il finale di stagione di Game of Thrones, e che lavorerà la serie insieme al figlio Christopher Rice. Infatti la volontà è proprio quella di ripartire dall'inizio e quindi da scelti dalle tenebre, il vampiro Lestat. La felicità ovviamente alle stelle, i diritti sono nuovamente nelle mie mani, voglio la massima qualità per i miei vampiri, per Lestat, Armand, Marius, Louis, insomma lei è contentissima ed è pronta a mettersi all'opera insieme al figlio Christopher. Cosa manca? Qualcuno che gliela produca. E qui arriviamo nell'aprile del 2017. Infatti ad aprile 2017 qualcuno che produrrà effettivamente le cronache dei vampiri c'è, e che qualcuno è Paramount. Paramount non solo conferma la volontà di voler acquistare l'intera opera delle cronache dei vampiri, ma conferma anche di voler partire appunto da scelti dalle tenebre. Il secondo libro delle cronache ed è quello che spiega le origini di tutto quanto, le origini di Lestat, le origini di tutti i personaggi e della loro, poi alla fine della giostra, del mondo della Rice. Il libro, a mio parere, più complesso, non tanto per le tematiche, quanto per la mole di dettagli, di background e di personaggi che effettivamente ci sono al suo interno. Però finalmente abbiamo un produttore, quindi alleluia! Adesso è vero, abbiamo un produttore. Cosa manca? Uno showrunner. Un bravo showrunner che prende in mano le redini del progetto, faccia ovviamente da guida e quindi ci consegni finalmente queste cronache dei vampiri. Passa un pochino, passa quasi un anno dall'ultimo annuncio di Paramount nell'aprile del 2017, perciò ci trasferiamo nel gennaio 2018. Quando, cosa odono le mie orecchie, la Rice è riuscita a mettere le mani sullo showrunner degli showrunner, ovvero Brian Fuller. Non poteva andarci meglio, ragazzi. Brian Fuller, showrunner di Star Trek, Eros, Hannibal, American Gods. Cosa chiedere di più? Brian Fuller è l'uomo per le cronache dei vampiri. E tutto quello che noi stavamo aspettando per avere una buona trasposizione. Fermo restando che lo scetticismo è sempre dietro l'angolo, perché le cronache dei vampiri sono troppo vaste, troppo metaforiche, troppo simboliche, però almeno stiamo facendo dei passi avanti. Abbiamo la produzione, abbiamo lo showrunner, manca solo scrivere la serie e farci sapere effettivamente di che cosa stiamo scrivendo e poi darci il cast. Il cast che tutti quanti noi sogniamo, ma soprattutto un cast alquanto difficile. Potevamo veramente cantare vittoria? Poveri illusi! Cos'è che è successo? È successo quello che succede a quasi ogni serie che passa dalle mani di un geniale talento come quello di Brian Fuller. Brian Fuller lo abbandona. Ebbene sì, nemmeno sei mesi dopo, perché ci trasferiamo a maggio 2018, Brian Fuller abbandona il progetto e noi siamo quasi punto a capo. Però la Rice e Christopher Rice non demordono, anzi vogliono dirci che loro stanno ancora lavorando, sono comunque ottimisti e infatti sulla pagina Instagram di Christopher Rice appare la copertina della sceneggiatura del pilot di Scelti dalle Tenebre, appunto, di Vampire Lestat, della prima stagione di questa fantomatica serie che prima o poi arriverà grazie a Paramount. Il primo episodio si chiamerà Wolf Killer, quindi effettivamente le cose stanno andando avanti, anche se siamo orfani di showrunner. Vabbè, che sarà mai? Morto uno showrunner se ne fa un altro. Morto uno showrunner se ne fa un altro, è vero, però nel frattempo, da quando effettivamente la Rice aveva dichiarato la volontà di fare questa serie TV, sono passati già due anni e non è poco. Inoltre lei sta continuando effettivamente a scrivere i libri delle cronache dei vampiri, che però purtroppo gli ultimi due libri non sono mai arrivati in Italia. E non vi siete persi proprio nulla. Considerando le tempistiche che generalmente ci vogliono tra un annuncio e l'altro, beh, io già mi aspettavo che sarebbe passato un altro anno, invece dopo pochi mesi arriva una nuova notizia, ovvero chi trasmetterà le cronache dei vampiri, visto che viviamo nel mondo delle piattaforme on demand, beh, la trasmetterà l'unica piattaforma che effettivamente non c'è in Italia, ovvero Ulu. Ma comunque sempre qualcosa in più è, alla fine una produzione statunitense, figuratevi quanto se ne importano i noi italiani, e ok, va bene, ci sta in un modo o nell'altro, arriverà anche da noi in Italia. Però questo sicuramente è un passaggio molto importante. Abbiamo il produttore, sappiamo che la serie la stanno scrivendo, aspettiamo dei dettagli, aspettiamo un cast, e abbiamo anche un distributore, abbiamo anche una piattaforma dove effettivamente questa serie vedrà la luce del giorno. C'è un pochino più di ottimismo, io non riesco a essere completamente felice, ma almeno cominciamo a vedere quella che è la famigerata, luce in fondo al tunnel. Quindi cosa manca? Manca obiettivamente il cast, da qui a poco dovrebbero annunciarlo, giusto? Invece non è esattamente così giusto. Ripeto, per chi non avesse mai letto le cronache, e vi invito a farlo, perché i primi libri sono veramente stupendi, i libri che vanno da Intervista col Vampiro, Scelti dalle Tenebre, La Regina dei Dannati, Il Ladro di Corpi, Memnock il Diavolo, che è un trattato di religione, filosofia, metafisica, e qualcosa di eccezionale, e Armand e il Vampiro, sono veramente dei libri super, iper, mega interessanti. La Rice è quella che ha cambiato di più la figura del Vampiro. Il Vampiro per la Rice rappresenta lo specchio, il filtro con cui inquadrare una società in completo decadimento, che ha perso completamente i valori del vecchio mondo, e ormai si affaccia ad un nuovo mondo. Ma questo nuovo mondo, così perconnesso, così tecnologico, così evoluto, è effettivamente una copia migliore del vecchio mondo? Ecco, la nostalgia che rappresentano i Vampiri della Rice è quella che poi racchiude il senso di tutto questo. Ed è qualcosa di estremamente psicologico, estremamente mentale, e molto sensibile, infatti i Vampiri della Rice, e poi tra l'altro possiamo quasi definirli assessuate, hanno un rapporto molto particolare con il sesso, con la percezione dell'essere umano, e anche con la percezione della loro stessa natura. Si amano e si odiano, rimpiangono la loro natura mortale, ma al tempo stesso adorano la loro natura immortale. È un concetto molto complesso da rendere effettivamente sullo schermo, soprattutto se poi pensiamo alle ultime opere riguardanti i Vampiri, come Twilight, The Vampire Diaries, True Blood, che almeno si strombacchiava un pochino là. Non siamo proprio così sicuri. Comunque, nuove informazioni quando arrivano, beh, siamo rimasti a luglio 2018, purtroppo per avere delle nuove informazioni, dobbiamo aspettare il febbraio 2019, dove sembra essere tutto confermato, e viene trovato un nuovo showrunner, anzi una nuova showrunner, ovvero Dee Johnson, che si era occupata di The Good Wife. Quindi comunque una scrittrice, una sceneggiatrice, piuttosto conosciuta, molto brava in quello che fa, anche qui dovremmo stare più o meno una botta di ferro, vediamo come vanno le cose. Purtroppo le cose, anticipiamo un pochino i tempi, non vanno esattamente bene, perché tutto cade in un grande dimenticatoio, ovvero per oltre un anno, non se ne sa assolutamente più nulla. Ogni tanto c'è qualche sporadico aggiornamento, per chi come me è uno stalker, e quindi segue la pagina di Enrise, ed è lì ogni giorno a sapere se ci sono aggiornamenti oppure no. A parte qualche sporadico, quindi aggiornamento di Enrise, da parte del suo staff, qualche piccolo upgrade, che è un contentino, cioè non ci dice praticamente nulla, se non sì, il progetto sta andando avanti, i lavori stanno andando benissimo, ma non abbiamo veramente nessuna informazione, la speranza che effettivamente queste cronache dei vampiri si facciano, ormai è pari allo zero, e io ero anche felice in questo modo. Se non fosse quindi che oltre dopo un anno, dall'aggiornamento sulla showrunner, arriva un nuovo aggiornamento, che ribalta completamente le carte in tavola. Siamo a maggio 2020, e Amy sì, così all'improvviso, manifesta il suo interesse, non solo per le cronache dei vampiri, ma anche per il ciclo di My Fair. Quindi stiamo parlando di ben 18 libri, compresi appunto gli ultimi usciti un anno prima. L'interesse è alle stelle, si vocifera però, che effettivamente ci siano dei cambiamenti, che cambieranno gli showrunner, e che quindi a questo punto, non sarà più Hulu, a trasmettere le cronache dei vampiri. Chi si occuperà quindi del progetto? Come vedremo le cronache dei vampiri? Ma soprattutto, questo cast, quando ce lo volete dare? Quindi eravamo rimasti a maggio 2020, con una Anne Rice super, iper, mega entusiasta, che bello, che bello, però obiettivamente le informazioni erano pari allo zero. Fino a quando, appunto, la scorsa notte, arriva l'Hollywood Reporter, con questa super notizia. Notizia che arriva a distanza di un anno, e passa, quindi evidentemente qualcosa di nascosto, neanche fosse l'area 51, è stato effettivamente fatto. E ritornando all'inizio di questo video, non solo viene ufficializzata la realizzazione di questa serie tv, ma viene anche confermata la volontà di mettere insieme i due mondi letterari, quindi quello dei vampiri e quello delle streghe, che per carità va anche bene, perché ci sono appunto tre libri, che si incrociano tra di loro, ovvero Merrick la strega, il vampiro di Blackwood, e Blood Canticle. Quindi fin qua tutto torna. La vera cosa che stona, e che ci fa capire che qualcosa è andato storto, e quindi si sta ricominciando, meglio si è ricominciato tutto da capo, è proprio che la serie non si chiamerà più Il Vampiro Lestat, ma la serie si chiamerà Intervista col Vampiro, e che partirà proprio da Intervista col Vampiro. Quindi, quello che era stato scritto in precedenza, sostanzialmente è stato del tutto cestinato. Il lavoro passa a due nuovi showrunner, che comunque sono due bravissimi, incredibili showrunner, ma adesso non si sa più nulla. O meglio, si hanno delle informazioni piuttosto decisive, come appunto l'uscita, per quanto generica, della serie, che dovrebbe essere nel 2022, anzi confermano che sarà nel 2022, sulla piattaforma di MC Plus, però non sappiamo se quindi è stato riscritto tutto da capo, sappiamo che la stagione, attualmente la prima stagione, sarà composta da otto episodi, e non sappiamo ancora quali saranno gli attori, scelto ovviamente per interpretare i ruoli principali. Scelta che non è affatto facile, ma proprio per nulla. Fermo restando il grande scetticismo, io però un suggerimento per i produttori e per Rice, e soprattutto per MC, ce l'avrei per l'estate. Cody Fern, Ryan Murphy in American Horror Story Apocalypse, ce l'ha già messo nei panni di l'estate, ce l'avete già lì bello pronto, secondo me, contrattino, e almeno sull'estate tiriamo un sospiro di sollievo. Adesso voglio sapere la vostra, cosa ne pensate di questo progetto? Vedrà effettivamente la luce del giorno? Siete ottimisti nei confronti di questa grande opera che effettivamente dovrebbe poi esserci alle spalle di una serie tv con alla base le cronache dei vampiri? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti che io vi leggo. Vi ringrazio per aver seguito questo video, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollicione in su, attivate la campanella di Lega Nerd e iscrivetevi al canale YouTube di Lega Nerd, continuateci a seguire anche sul nostro canale Twitch e sulla pagina Facebook e ovviamente su LegaNerd.com Ah, fatemi sapere se questa tipologia di video vi interessa oppure no. Noi ci vediamo ad un prossimo video, vi ringrazio per essere stati con me, sono Gabriella, alla prossima, ciao!